buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo anzi risponderò ad un signore che mi parla mi spiega perché è unico perché ha la sua unicità perché è diverso da tutti gli altri beh io ho diversi punti per i quali sono il professionista l'ipnosi diverso dagli altri tantissimi punti però il più forse importante è che da 12 anni dal 2008 ad oggi mi auto ipnotizzo h24 significa che anche in questo momento che tu ci credo meno io sono ipnotizzato ok e che cosa porta ad essere ipnotizzato h24 tutti i santi giorni di tutti i mesi di tutti gli anni dal 2008 ad oggi da più di 12 anni ad avere più energia più forza più voglia di fare più voglia di trasmettere più 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 ragazzi come se tu camminassi sempre con le gomme gonfie tutto il giorno e non con gomme sconfie oppure con il freno a mano tirato questo porta ad essere più positivi ad avere più salute ad avere più benessere ad avere più voglia di vivere ad avere gli alberi e dire mamma mia come siete belli sembra una sciocchezza ragazzi ma io quando fumavo tre pacchetti di sigarette ero la persona più stressata di questa terra perdevo la pazienza in un nanosecondo ti posso garantire che tutto scorreva attorno a me e non me ne importava non mi interessava non non lo guardavo non guardavo la bellezza della natura non guardavo la bellezza dei ragazzini non guardavo la bellezza della vita non guardavo la bellezza di nulla perché ero la persona più stressata più negativa e più nervosa di questa terra oggi grazie a dio posso dire confrontandomi anche con moltissimi colleghi americani francesi tedeschi inglesi italiani eccetera che sono l'unica persona che si auto ipnotizza con certosina pazienza tutti i santi giorni è entrato ormai nel mio sangue da quando ho conosciuto la grandissima dottoressa rina brunini il suo metodo che poi è diventato il mio metodo affinato in 12 anni e ti posso dire perfino e per segno che cosa succede ho viste di tutti i colori ragazzi per cui nel corpo nella mente nella tua vita visibile invisibile tu mi chiederai adesso perché dottore perché le ho vissute io le vivo io ogni santo giorno la mia mission qui non è venderti qualcosa e trasmetterti il fatto che i poteri forti in buona fede o mala fede non ti hanno insegnato non ci hanno insegnato che cosa può fare questa perché perché se ti insegnano ad essere libero indipendente ti possono comandare manipolare farti acquistare tutto ciò che vogliono fatti questa domanda ok per cui a prescindere dal sottoscritto inizia il percorso di presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona a prescindere dal paese in cui siedi ci sono di seri persone molto serie che però abbiano già affrontato il tuo problema questo è molto importante che nessuno dice neanche nel mondo dell'ipnosi che sia uno specialista del tuo caso non un generalista perché tu non vai mai da qualcuno che fa tutto di più ma tu vai sempre allo specialista del tuo problema qualcuno che con i fatti ti dimostri che ha già affrontato il tuo caso e inizia 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 senza ma e senza se ragazzi funziona 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 e cambia la tua vita da così a così come è successo a me a mio padre nel 2008 ed è un metodo il metodo di cese di ipnosi di cese vera e professionale facile nell'uso nell'uso facilissimo che non ti ruba tempo zero secondi senza nessun effetto collaterale perché non è neanche uguale al metodo dell'ipnosi conformista commerciale che si trova in giro anche se buona nessuno dice il contrario quella famosa di milton erickson però che si insegna anche a scuola all'università che però ha qualcosina che magari non va bene per tutti mentre il metodo di cese di ipnosi di cese vera e professionale va bene per tutti bambini adulti anziani a prescindere perché dipende molto dalle suggestioni dalle suggestioni perché il metodo è un discorso o ci sono le suggestioni che significa le parole naturali senza nessun effetto collaterale che dipendono da come una tela un quadro dal pittore dal professionista dell'ipnosi che inizia a disegnarla e a creare quella combinazione quell'incastro che apre la tua cassaforte il tuo pilota automatico lo fa esaudire ogni tuo desiderio ogni tuo desiderio un ordine ragazzi funziona così veramente io ho 53 anni e quando un ragazzino leggevo i cartoni animati il genio della rampa da radino le fate i maghi mi ha sempre affascinato però pensavo quando sono cresciuto che fosse tutta fuffa poi quando mi sono approcciato all'ipnosi ho visto gli effetti su di me e su centinaia e centinaia di persone soltanto nella mente perché molti così va bene psicologia sono parole ma anche nel corpo e nella vita visibile invisibile che ci gira attorno bene inizia a capire che cosa volevano dire quelle favore che pochi avevano o compreso o comprendono per cui funziona funziona e poi la cosa bella è che non devi vendere l'anima al diavolo non è né religione né politica l'ipnosi di cesse vera professionale non è diavoleria non è stregoneria è la magia della tua mente il miracolo della tua mente lo so che adesso mi prenderai perfuso per pazzo per chi dice n'importo qua dicono in francia qualunque cosa tanto per ma ti posso garantire che così sperimentato su di me su centinaia e centinaia di persone nel mondo documentabili ok molte testimonianze le vedi anche sul sito internet www.ipnologiassociati.com il sito della mia associazione ipnologiassociati los angeles baby reels che conta moltissimi associati di caratura internazionale in varie estrazioni culturali e professionali per cui di cosa stiamo parlando poi gli audi mp13 si gestisce l'associazione quindi per quanto riguarda lo scarico la gestione ti devi rivolgere a loro scrivi un email mandi un email il sottoscritto la mission è quello di divulgare il mio metodo ok di trasmettere alla gente di buona volontà un metodo unico al mondo mai sentito mai visto neanche nel mondo dell'ipnosi conformista commerciale che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi uh tutte sciocchezze è il potere della tua mente sai come fare e non perdere gli anni gli anni gli anni a norma che ho perso io che ha perso il sottoscritto per diffidenza per paura perché non ci credevo perché pensavo che mi manipolassero perché pensavo mi mettessero le mani nella testa e poi risolvessero un problema ne facessero uscire un altro come pensa anche l'ipnosi conformista commerciale per certe categorie tutte sciocchezze cazzate con la k maiuscola eccomi qua passato da studente lavoratore senza una lira in tasca il negativo dei negativi ci ho messo dieci anni per filmarmi mettermi davanti a te a testimoniare a dare la mia testimonianza la mia testimonianza ok fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel guido quella molla che gli può cambiare la vita e commenta anche la domanda la più stupida la più banale non ti preoccupare scrivi togli di sto dubbio gratis io ti risponderò gratis ok compatibilmente ma i tempi e mi impegni certe volte risponde velocemente perché ho tempo libero altre volte metto anche un giorno 23 dipende 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 e poi visita la mia fan page su facebook ipnosi ha avuto ipnosi del dottor claudio saracino e seguimi anche sugli altri social tra cui instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e se tu hai un problema puoi iniziare anche da un audio mp3 di css che trovi sul sito dell'associazione ipnologi associati e che può fare per te per il tuo caro perché il metodo di cesser funziona anche per chi non vuole il aiuto non può averlo mi riferisco a dei giovani che stanno davanti alle tv ipnotizzati negativamente depresi eccetera eccetera che non vogliono andare da nessuna parte non vogliono essere aiutati neanche online niente di niente di niente e poi utilizzare il metodo di cesser anche con queste persone perché funziona un metodo unico al mondo e anche per chi non può essere aiutato mi riferisco a un nono una persona di 70 anni 80 anni 90 anni allettato da tanti anni dove qualcuno dice non si può fare nulla ok un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima ciao